ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale come sapete già in questi giorni hanno mandato l'aggiornamento low rider che non comprendeva solamente l'aggiornamento low rider come avrete ben capito quindi vi porto un pacchetto che comprendeva quell'aggiornamento cioè l'albany roosevelt ragazzi la nuova albany roosevelt incorporata nell'ultimo aggiornamento che è stato fatto e fa parte del dlc di san valentino ragazzi anche quest'anno anche oddio so che l'anno scorso non c'è stato comunque quest'anno ci sarà il dlc di san valentino che porterà questa nuova auto questa nuova roosevelt diciamo che è totalmente diversa all'apparenza sembrava uguale però è totalmente diversa ragazzi si può notare nel video ci sono parecchie modifiche parecchie cosine diciamo che è molto bella io non ho lasciato trasparire i prezzi delle modifiche perché questo poi lo scoprirete da soli ho lasciato solo il prezzo di quanto costerà questa auto così sarete belli pronti e preparati per poter comprare questa auto e niente poi nel dlc di san valentino ci saranno anche altri abiti altre cosine che sono non vi porto perché comunque sono solamente delle immagini filtrate quindi diciamo che è inutile portarle però comunque bene o mai la solita roba reggi calze culotte per donna vestiti per uomo tutte queste calzatelle quindi è nulla di particolare l'unico vero sarà questa albani roosevelt questo nuovo modello di roosevelt che abbastanza bella quindi niente ragazzi diciamo che il video finisce qui un saluto da maxi e al prossimo video ciao a tutti ciao